viaggi vacanze street photography stai cercando una macchina che sia leggera attascabile e che faccia belle fotografie e magari anche bei video esisterà veramente vediamo quali sono le migliori fotocamere compatte oggi sul mercato e come orientarsi per scegliere la più adatta per le proprie esigenze sigla e bentornati sul canale di fotocamera pro.it il portale dedicato al digital imaging dove potrete trovare informazioni consigli e classifiche su fotocamere e attrezzature fotografiche oggi ci occupiamo di recensire quelle che a nostro avviso sono le dieci migliori compatte disponibili sul mercato per rapporto qualità prezzo al decimo posto nella nostra classifica c'è la canon powershot sx 740 hs a parte la dimensione tascabile ed il prezzo di fascia bassa gli aspetti positivi sono lo zoom da 40x il video 4k e sistema f che funziona abbastanza bene per scatti con poca luce non aspettatevi una buona qualità immagine perché il sensore è di dimensioni molto piccole e l'apertura del diaframma non è molto ampia non c'è l'opzione di scatto in formato raw lo schermo è pieghevole in alto per selfie ma non è touchscreen e non c'è il mirino la canon sx 740 è la classica punta e scatta creata per il fotografo amatoriale che non cerca niente di serio con qualità immagine nella media ma comunque superiore ad uno smartphone i motivi principali per cui acquistare questo modello sono lo zoom di lunghissima portata la tascabilità e la versatilità appunto perché con uno zoom così esteso avrete a disposizione in un piccolo corpo macchina dalla fotografia di paesaggio a grand'angolo alla fotografia con teleobiettivo da utilizzarsi durante la giornata per vacanze e per foto di famiglia da evitare fotografie al chiuso e con scarsa illuminazione perché appunto vedrete comparire un bel po di rumore digitale e la qualità immagine sarà minore. Altra opzione per chi è in cerca di una punta e scatta super zoom di fascia bassa è la Panasonic Lumix TZ95. Qui guadagnate l'opzione di scatto in raw, schermo selfie touchscreen, controlli migliori per scattare in manuale, ci piace la presenza di un anello di controllo attorno all'obiettivo per messa a fuoco, zoom ed effetti, c'è il video 4k, il mirino elettronico e lo zoom è da 30x con lunghezze focali da 24 a 720 mm. Aspetti negativi della TZ95 sono le dimensioni del sensore e la scarsa apertura del diaframma che ancora una volta equivalgono ad una bassa prestazione quando non c'è abbastanza luce. Mettiamo la Panasonic nella stessa categoria della Canon SX740 perché è adatta per fotografi amatoriali con poche pretese fotografiche in cerca di una compatta tuttofare per vacanza. Qui le caratteristiche però sono migliori ed avete un'esperienza più piacevole grazie soprattutto alla presenza del mirino. Ancora una volta non aspettatevi risultati eccezionali in condizioni di scarsa luce, vi consigliamo quindi di utilizzarla all'aperto durante la giornata e non per fotografia serale. Cambiamo categoria e restiamo circa nella stessa fascia di prezzo. Andiamo a scoprire le caratteristiche della Olympus TUF TG5. Per chi è in cerca di una subacquea resistente agli urti e cadute e per utilizzi estremi questa compatta è l'acquisto ideale. Impremeabile fino a 15 metri di profondità, resiste a cadute da 2 metri, zoom ottico da 4x, obiettivo luminoso con apertura f2, qualità fotografica migliore nella sua categoria, video 4K e anche video slow motion con buone capacità anche in condizioni di scarsa luce. 20 fps in scatto continuo, stabilizzatore immagine, buona risposta ad alti ISO e GPS integrato. Cosa potrebbe mancare a chi cerca una compatta? Non c'è il mirino, il display è in posizione fissa e non è touch. Sinceramente tutte queste mancanze sono capibili perché il focus qui è l'impermeabilità e la resistenza. Rispetto alle altre fotocamere subacquee come ad esempio la Nikon V300, qui avrete qualità immagine superiore e migliore risposta alla luce, che è la caratteristica vitale per chi va in immersione dove la luminosità è sempre scarsa. Esiste la versione più aggiornata di questa fotocamera che è la TG6, che però è più costosa e non presenta molte differenze in qualità immagine e prestazioni, motivo per cui abbiamo scelto la TG5 appunto per rapporto qualità prezzo. Però se vi capita di trovare la TG6 ad un prezzo scontato andate tranquilli e prendete la nuova versione che ha qualche piccola chicca in più. Andiamo ora a parlare di una macchina compatta per street photography, la Fujifilm X-F10. Qui passiamo ad una qualità fotografica notevolmente migliore rispetto ai modelli finora descritti ed il motivo principale è la presenza di un sensore APS-C che ha un'area esponenzialmente maggiore rispetto ai piccoli sensori delle compatte travel zoom. I pro di questa fotocamera sono appunto il rapporto tra la qualità immagine e il prezzo, lo schermo touch, scatto in RAW, 91 punti AF, buona autonomia, controlli manuali e molto piacevoli da utilizzare. Obiettivo prime da 28 mm equivalenti con apertura f2.8. Per chi cerca una fotocamera per street photography con mirino meglio valutare un altro modello perché questa è la caratteristica di cui più sentiamo la mancanza nella X-F10. Altra cosa che sarebbe buona per street photography è la possibilità di articolare lo schermo che qui invece è in posizione fissa. Per video la qualità Full HD 1080p è buona perché può registrare a 60, 50 e 24 fps ma non la consigliamo per video 4K perché l'unico frame rate disponibile è il 15 fps il che risulta in una qualità filmato a scatti. Ci sono altre piccole mancanze come la stabilizzazione interna e non c'è la hot shoe per flash esterno. Tutto questo suona molto negativo però sarebbe sbagliato dire che la X-F10 ha più contro che Pro perché in sé l'ottima qualità immagine e la piacevolezza dell'utilizzo di questa compatta a questo prezzo si paga da sola. È una macchina da reporter in stile classico con obiettivo fisso a 28 mm di ottima qualità che va bene per la fotografia documentaristica. Numero 6 la Canon PowerShot G7X Mark II è un'altra compatta che fa parlare moltissimo di sé soprattutto per chi fa video vlog. Le caratteristiche che troverete positive in questa macchina fotografica sono la buona versatilità dell'obiettivo zoom che copre da 24 a 100 mm con apertura da f1.8 a f2.8, schermo selfie touchscreen, stabilizzatore immagine e filtro nd integrato. Anche qui manca il mirino elettronico, non è presente la slitta a contatto caldo per flash e la durata della batteria lascia un po' desiderare soprattutto per chi la vuole utilizzare per filmare vlog o scattare tutto il giorno. Il sensore da un pollice realizza risultati abbastanza qualitativi ed è ottima da utilizzare anche quando la luce è scarsa appunto grazie alla qualità dell'obiettivo. Video full hd ma non 4k che non è un aspetto negativo, chiariamo che per questo tipo di fotocamera la mancanza del 4k non è assolutamente un problema, i video full hd vanno ancora benissimo. Una cosa che ci piacerebbe tantissimo avere in questa compatta è l'entrata microfono. Se avesse questo dettaglio la Canon G7X2 sarebbe la fotocamera perfetta per il vlogger viaggiatore. Ovvio che potrete utilizzare il microfono integrato e la qualità non è male, ma col microfono esterno sarebbe tutta un'altra cosa. Panasonic Lumix TZ200, qui si parla di un attascabile dalle capacità ben superiori rispetto a quelle trattate all'inizio della classifica. Anche qui siamo nel reparto delle travel zoom con un obiettivo che copre un'ampia gamma focale da 24 a 360 mm. Abbiamo un sistema di stabilizzazione interno a 5 assi, possibilità di scattare in raw, 49 punti AF con riconoscimento del volto, raffica da 10 fps e modalità foto 4K. Il display non è orientabile ma in posizione fissa, l'obiettivo non è molto luminoso da 3.3 a 6.4 e anche qui manca la hot shoe, però abbiamo un EVF di buona qualità. Il sensore da un pollice produce risultati molto gradevoli, ma anche questa, come le altre travel zoom citate, non è una fotocamera che consigliamo a chi deve far fronte a situazioni di scarsa luminosità e va utilizzata dove l'illuminazione è buona. A questo prezzo ci sarebbe piaciuto avere una compatta resistente a umedità e agenti atmosferici, invece questa è una caratteristica che non c'è, quindi bisogna stare attenti quando la si porta in viaggio. La sezione video è molto buona, 4K a 30 fps e 1080 a 120 fps. Consigliamo la TZ200 a chi ha un po' da investire in una travel zoom testabile e vuole una qualità immagine superiore alle entry level e anche a chi vuole divertirsi a produrre filmati di una certa qualità e in slow motion. Alziamoci ora di livello in qualità fotografica e scopriamo la numero 4 della nostra classifica che è la Panasonic Lumix LX102. Qui non siamo più nel settore delle travel zoom, siamo più nel settore street photography, a nostro avviso un po' più da fotografi avanzati. Le caratteristiche che ci piacciono sono il sensore micro 4 terzi da 17 megapixel, l'ottimo obiettivo Leica 24-75mm f1.7-2.8, stabilizzazione immagine, 11 fps a raffica, mirino elettronico e qualità video 4K. Anche qui abbiamo il sistema F con 49 punti di messa a fuoco, ovviamente si può scattare in RAW e in modalità manuale, ma lo ripetiamo la caratteristica che spicca qui è l'apertura del diaframma che a 24 mm è 1.7 e a 75 mm è 2.8. Questo vi consente di scattare dei ritratti bellissimi con sfondo sfocato quasi al livello di una professionale. Cosa aspettarci di negativo? Secondo noi l'unica cosa da citare è l'assenza di un'articolazione dello schermo che è fisso. Se questa caratteristica per voi non è importante e volete stare sotto i 1000€ per una compatta dal carattere professionale, questa fotocamera è quella giusta per voi. Torniamo alle compatte travel zoom però qui di categoria premium e andiamo a conoscere il numero 3 della classifica che è la Sony Cybershot RX100 Mark VI che è l'ultima arrivata della serie ed offre capacità incredibili sia per foto che per video. Il prezzo lo sappiamo sembra alto per questo tipo di fotocamera perché sopra i 1000€ si potrebbe anche iniziare a pensare di acquistare una macchina con obiettivi intercambiabili. Qui l'intenzione di Sony è quella di offrire la sua tecnologia più avanzata in un corpo tascabile come soluzione unica. I pro della RX100 sono proprio la tascabilità, la presenza di un mirino EVF, display selfie, video 4K e super slow motion, raffica fotografica da 24 fotogrammi al secondo, altissima, stabilizzazione immagine ottica da 24 a 200 mm con apertura massima f2.8 4.5. Manca veramente poco, potremmo lamentare l'assenza di una slitta hot shoe e l'assenza di un'entrata a microfono per chi la vuole utilizzare per vlog perché questa macchina è anche ottima per video. Se siete in cerca di una macchina tascabile con qualità foto e video top di gamma e se avete voglia di investire questo è un modello che consigliamo sopra tutte le altre travel zoom. Magari vi è anche utile sapere che la versione precedente è ancora un acquisto del tutto consigliabile, con zoom meno capace ma obiettivo più luminoso e costa meno. Andiamo ora nella categoria delle compatte professionali. La Canon PowerShot G1X Mark III è una fotocamera rivolta a chi vuole una simile mirrorless in dimensioni e tipo di utilizzo. Ci piacciono i controlli tattili e manuali, il sensore di grandi dimensioni APS-C da 24 megapixel, l'obiettivo zoom 24 72 mm con apertura 2.8 a grande angolo, ND integrato, modalità di scatto continuo a 9 fps, stabilizzazione interna, display completamente articolato, merino elettronico e corpo sigillato resistente a umidità e sabbia. Una caratteristica negativa è la poca apertura del diaframma in modalità teleobiettivo di soli f5.6 che non ci consente di ottenere quei ritratti dallo sfondo sfocato e non ha buone prestazioni in condizioni di scarsa luce appunto quando lo zoom è esteso. Ancora una volta, e qui però è abbastanza clamoroso, manca l'entrata a microfono per i vlogger. Ci sarebbe la slitta su cui posizionare il microfono esterno. Il display si apre a lato e non sopra, però non si può collegare il microfono per registrare video e ci si dovrà accontentare del microfono integrato. La Canon G1X III è a nostro avviso una delle fotocamere compatte che va consigliata agli entusiasti della fotografia di strada e documentaristica. I motivi per cui acquistare questa macchina sono la qualità immagine vicina alle professionali, lo schermo articolato e le prestazioni in generale molto buone per questa categoria. E siamo giunti al termine della nostra classifica e ancora una volta vi ricordiamo di lasciarci un commento se avete qualche consiglio su quale compatta acquistare. E se il video vi è piaciuto lasciateci un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ed è arrivato il momento di scoprire la compatta top di gamma della nostra classifica che è la Fujifilm X100F. Questa è la fotocamera di riferimento per street photography. A meno che non vogliate andare su una Leica e spendere cifre altissime, la qualità della X100F è la migliore in circolazione a nostro avviso. Sensore APS-C da 24 megapixel senza filtro low pass, obiettivo prime da 35 mm con apertura f2, mirino ibrido tra l'ottico e l'elettronico, 325 punti AF, ND integrato e controlli manuali della qualità costruttiva eccellente. La macchina è inoltre esteticamente molto bella con quel taglio vintage che piace tanto agli amanti di Fuji. Cosa non avrete con questa fotocamera? Non ha la versatilità dello zoom, lo schermo è fisso e non c'è il touchscreen e non c'è la stabilizzazione interna. Il piacere di utilizzare questa Fuji è immenso e la qualità delle foto scattate è superiore rispetto alle altre compatte. È adatta all'utilizzatore esperto che sa come utilizzare una fotocamera in manuale per prendere vantaggio delle incredibili capacità del sensore e dell'obiettivo. Il 35 mm è una focale estremamente versatile e se proverete la X100F presto scoprirete che per fare belle fotografie lo zoom serve a poco. Qui avete un obiettivo luminoso che vi permette di scattare anche quando c'è poca luce. Adatto per paesaggi, ritratti, fotografie di strada e per qualsiasi cosa venga in mente la vostra creatività. La Fujifilm X100F in definitiva è un acquisto di cui non vi potrete pentire. Amanti della fotografia digitale non ci resta che salutarvi e darci appuntamento al prossimo video. Non vediamo l'ora di mostrarvi le prossime classifiche e darvi tutte le informazioni utili che vi servono per la vostra fotografia. Alla prossima, ciao!